Amici trader, buonasera a tutti, sono Stefano Vessicchio per la consuetta analisi ciclica e mi scuso se qualche video l'ho saltato ma purtroppo ho avuto alcuni impedimenti familiari per cui non ho avuto tempo, però io vorrei appunto farvi vedere un'analisi che ho fatto non facile, vi confesso che non è stata facile, ho un'analisi ciclica nel medio periodo e capire per quale motivo appunto stanno avvenendo questi ribassi io diciamo la risposta ce l'ho avuta dai cicli, comunque prima di cominciare vi ricordo che per l'analisi uso il software Cycle Navigator di Eugenio Sartorelli chiunque lo volesse testare basta che va sul suo sito e gli scrive verrà abilitato per un mese ah tornando a noi, la risposta tra virgolette adesso posso dire semplice però lì per lì per lì insomma non è arrivata a questa conclusione questo è un ciclo a 8 anni praticamente è partito eccolo qua, questo qua è partito il 25 maggio del 2012 8 anni circa 2012 la conclusione la conclusione la darebbe nel 2020 per cui è un ciclo a 8 anni a tutti gli effetti per lo meno per lo meno sul software come l'ho centrato dovremmo avere debolezza per tutto il prossimo anno fino a giugno del 2020 che debolezza debolezza non vuol dire catastrofi io leggo catastrofi, catastrofi, crolli chi più ne è più ne metta debolezza del mercato vuol dire una tendenza ribassista però ecco non è detto che faccia sì magari ci può essere qualche giornata di forti ribassi ma comunque poi l'andamento è a zig e zag non è che va giù sparato e basta per cui noi dovremmo essere ecco qua questo è un ciclo a 8 anni qua è finito in 2 anni vedete io ho messo la media mobile di beta ciclo questa è la media mobile che rappresenta il ciclo a 4 anni e il ciclo a 2 anni si è andato a chiudere proprio sulla media mobile del 4 anni poi qui è partito un altro 2 anni che probabilmente si è messo a ribasso vedete non ce l'ha fatta a superare questi massimi qui dovrebbe essere partito un ciclo mensile di un nuovo intermedio dopo lo andiamo a vedere qua siamo sull'aerostox per il DAX va la stessa cosa di un nuovo intermedio per cui io suppongo che questo ciclo a 2 anni si è già messo a ribasso e adesso ve lo dimostro in maniera più semplice con delle medie mobili cicliche queste sono delle medie mobili cicliche questo rappresenta praticamente il ciclo a 2 anni come potete vedere qua si è concluso vedete la rota di basso per cui qua si è concluso un ciclo a 2 anni qui ne è partito un altro questa rappresenta il ciclo a 2 anni allora scusate questo è il ciclo a 4 anni quindi niente un attimino me lo sono andato in confusione va bene allora questa è la media mobili del ciclo a 2 anni vedete ciclo a 2 anni qua il ciclo è chiuso sulla media mobili del 4 anni perché ci sono delle condizioni che il target il target della chiusura ciclica potrebbe essere la media mobili del ciclo superiore in questo caso è stato così qui vedete qua dal 2016 che è stata rotta di arso la media mobili del ciclo a 2 anni poi è stata testata quindi qua probabilmente avrà chiuso altra fase ciclica poi è stata rotta e si è andato ad appoggiare vedete si è andato ad appoggiare sulla media mobili del ciclo a 4 anni poi qua riguarda una nuova fase ciclica a 2 anni la rotta di arso però che è successo è successo che poi dopo vedete poi dopo è stata rotta a ribasso questo questo a 120 è la adesso la togliamo altrimenti di confondiamo le media mobili del ciclo annuale allora ciclo a 4 anni e ciclo a 2 anni vedete la rotta di arso però già qui qualche sospetto a volte le soluzioni più semplici sono quelle migliori uno fa tanti calcoli tante cose bastava che mettere due media mobili e la situazione si sarebbe capita vedete qui ha tentato lo sfondamento ma non ce l'ha fatta addirittura adesso il prezzo è andato a finire sotto la media mobili sia del ciclo a 2 anni che del ciclo a 4 anni per cui se siamo in conclusione di un ciclo a 8 anni i 2 a 4 anni già si sono messi a ribasso per cui noi è probabile che avremo fino al 2020 una tendenza ribassista il che non vuol dire che crolla tutto chissà che succede cataclismi chi più ne ha più ne metta avremo una tendenza zig zag probabilmente ecco certo potremmo rivedere nuovi minimi questo è ovvio però quello che adesso sono in grado di dire con molta probabilità che questo ciclo sia messo a ribasso per cui secondo me ogni occasione ogni volta che il prezzo va su è occasione è occasione di di shortare il mercato vedete che adesso la media mobili del ciclo a 2 anni sta per tagliare di basso la media mobili del ciclo a 4 anni vedete guardiamo pure l'annuale ecco l'annuale è già la rotta di basso vedete l'annuale è già messa di basso ecco facciamo così altrimenti ci confondiamo questo è l'euro stocks la stessa cosa vale per il DAX il DAX è più erradico per cui io faccio faccio fede all'euro stocks ecco quindi torniamo a noi questo è il ciclo a 8 anni questo è un ciclo a 2 anni e qua è cominciato un altro ciclo a 2 anni che volgerà a ribasso e il cycle navigator me lo ha finito per giugno 2020 considerando che i cicli a ribasso sono un po' più corti non sarà per giugno finirà un po' prima comunque noi da adesso fino a un anno e passa avremo probabilmente avremo una prevalenza ribassista andiamo a vedere un attimo l'ASP500 come siamo messi un attimo prima di passare all'ASP500 siamo sempre sull'euro stocks operatività più di breve periodo qua ho fatto un mensile da 24 giorni per cui suppongo vedete è partito praticamente il il 10 settembre per cui suppongo che questo sarà un ciclo farà 3 cicli da 20 giorni sarà un ciclo probabilmente a 3 tempi farà 20 40 e probabilmente 60 perché ho visto che ha ricominciato a fare cicli da 60 giorni per cui ecco io mi aspetto una ripresa delle quotazioni però attenzione perché poi secondo me una volta testati di questi massimi a 3.440 circa se li testa altrimenti potrebbe anche andare più basso come quotazioni e secondo me ecco comincerà comincerà a scendere bene questo è l'ultimo sull'euro stocks SP500 allora questo è l'SP500 e la situazione è un pochino diversa per quanto riguarda l'UROVA nel senso che l'SP500 ha fatto 9 massimi e poi dopo ha avuto questo ecco qua è stato un piccolo crollo diciamo allora qui questo è un ciclo a 4 anni sono andato un po' più nel dettaglio ciclo a 4 anni per cui questo è un 2 anni vedete totalmente a rialzo questo potrebbe essere uno dei primi massimi del ciclo a 4 anni adesso bisogna vedere perché se questo ciclo se questo 2 anni volgerà a ribasso deve essere ecco rotto questo livello io per cui non posso sapere se adesso qua ricomincia un nuovo mensile poi scende 2.574 seduta a ribasso vincolerà tutta la struttura a ribasso sull'Europa già è successo che l'ha vincolata a ribasso sull'SP500 ancora rialzista vedete ancora rialzista proviamo a vedere con le medie mobili non l'ho visto vediamo un po' allora qui siamo sull'SP500 come potete vedere il prezzo ha già toccato la media mobili a 2 anni quindi l'ha toccata in anticipo perché se la tendenza era rialzista era più probabile che l'avrebbe toccata alla chiusura dell'annuale invece l'ha toccata alla chiusura del semestrale per cui è probabile che pure sull'SP500 ossia cambiando la tendenza vedete si è appoggiata pure su proprio sulla media mobile del 2 anni per cui se la tendenza sarà ribassista presto vedremo i prezzi oscillare al di sotto della media del ciclo sia a 2 anni e probabilmente pure del ciclo a 4 anni eccolo qua vedete mettiamo la media mobile questa ecco la media mobile annuale l'ha proprio rotta di basso vedete l'aveva rotta pure qua però si è appoggiata proprio sulla media mobile a 2 anni vedete l'SP500 ha una configurazione ciclica differente rispetto all'Europa questo rappresenta il ciclo a 2 anni vedete prezzo sta sopra per cui tendenza rialzo qua può darsi che adesso faccio pullback e poi scenda io target non ne do perché target target non possono essere variabili non ci sono target il trend va sulla forza non sul target perché mi posso dare un target è difficile che ci arriva la borsa non è una scienza esatta sono soltanto probabilità allora velocemente Eurodollaro Eurodollaro probabilmente si sta concludendo un ciclo un anno e mezzo ha fatto una prima fase di due cicli vedete 148 e 143 giorni per primo aspetto la chiusura di questo ciclo a un anno e mezzo circa 131 giugno sono circa sei mesi e vedete qua ha fatto una sorta di testa e spalla sembrerebbe un testa e spalla poi bisogna vedere se le quotazioni vanno a ribasso allora è probabile che su Eurodollaro si scende per un altro paio di mesi e poi dopo potrebbe cominciare una nuova fase ciclica velocemente il bund il bund non è chiaro ciclicamente questo è un salto dovuto al passaggio dal vecchio al nuovo contratto come vedete va molto in laterale e per cui niente qua dovrebbe essersi concluso un ciclo da 47 giorni ma bisogna vedere perché poi qua tutto è andato in laterale vediamo se il super aumento di 159 e 65 potrebbe portare a una nuova fase ciclica ripeto il bund è ciclicamente un po' da interpretarlo questa è un'interpretazione che gli do io anche la correlazione è molto scarsa dovuta anche a questo punto salto bene io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro buon weekend e buon trading per la prossima settimana per la prossima